No dobbiamo trovare il suo figlio. Che cosa fai? Ma sei sicura di conoscere il balenese? Ci puoi indicare lo strato? Dory! Chissà che cosa stai dicendo! Visto? Se ne va. Torna qua! Non sta tornando indietro. Forse l'hai offesa. Provo un altro dialetto. Dory! Dory, non sembri una balena. Sembri un pesce che sta per vomitare. Bene, provo col megaterese. No, il megaterese no. Ecco. Ora sembri agonizzante. Forse più forte, eh? Falla! Finita! Trovo orchese? Sembrava un'orca, vero? Ma quale orca? Sembravi una cosa che non ho mai sentito. Meglio così, magari era affamata. Niente paura, le balene non mangiano pesci, mangiano krill.